Dal dialogo col silenzio passiamo a un tema che adesso sembra diverso, ma in realtà ci apre solo un'altra dimensione, quella dei big data, informazione e rumore. Molta informazione molto rumore, sarà questo il titolo del contributo di Clelia Di Serio che ci parla dalla prospettiva della professoressa di Statistica, insegna alla Facoltà di Scienze Biomediche dell'Usi e all'Università Vita e Salute sono Raffaele di Milano e siamo felici di concludere questa parte del nostro percorso perché ci sarà ancora poi un momento in cui ritorneremo invece al tema dell'apertura con Pietro Cielo e con Saverio Cantoni, ma con questo è l'ultimo contributo che porta una prospettiva nuova, una prospettiva molto importante e di grande attualità. Ringrazio la professoressa Di Serio e le cedo con piacere la parola. Allora intanto ringrazio la Fondazione Eccles per l'invito e tutti voi. Mi spiace un attimo di togliervi dalla magia della poesia del relatore, straordinario relatore precedente e di portarvi un po' forse in un mondo molto meno così magico dove il rumore viene concepito veramente nella sua accezione forse più negativa. Noi abbiamo visto questa mattina dei straordinari contributi in cui il rumore può essere visto come aspetto positivo, aspetto negativo che riempi il silenzio. Invece noi parleremo del rumore che viene dai dati e che in realtà ci tocca molto di più di quanto noi pensiamo e del livello di consapevolezza o di inconsapevolezza che noi abbiamo rispetto a questo rumore. Allora vorrei partire, parlo di big data, forse è un termine che molti di voi hanno sentito, magari no. Quindi vorrei tornare al termine di dato, che invece il dato, il problema dei dati è un problema con cui ci siamo purtroppo cimentati anche, diciamo, senza volerlo in questi ultimi due anni, tantissimo perché ne siamo stati bombardati, sommersi proprio con la pandemia e col covid. C'è stata tutta una parte della informazione che in un certo senso ci ha, diciamo, che noi abbiamo subito, che era sempre basata su dei dati. Ma che cosa sono questi dati? Avrete sentito molto spesso la frase lasciamo parlare i dati, no? Prima di, diciamo, intraprendere delle azioni anche di sanità pubblica oppure di tipo sociale rispetto al covid, c'era sempre questa attesa a volte del fine settimana o che arrivassero questi dati, che poi dovevano guidare delle azioni. Lasciamo parlare i dati. Che cosa significa? Ecco, per gli statistici, noi di professione, condivido anche con la collega Antonietta Mira, facciamo questo mestiere, no? Quando uno dice, tu cosa fai? Io sono un poeta, bello, io sono un medico straordinario. Quando noi diciamo, io sono uno statistico, di solito la gente ci guarda un po', ah, e dice, e quindi resta un attimino disorientato, chissà cosa fate. Allora, quando noi sentiamo la parola dato, che cos'è il dato? Il dato in realtà non parla, no? Prima il relatore precedente parlava di silenzio, no? Ma il dato di per sé è muto. Quindi quando noi sentiamo, lasciamo parlare i dati, abbiamo un po' così, un disorientamento, dato dalla che vuol dire datum, no? Lasciato. E i dati di per sé evocano l'idea di un'oggettività, no? Cioè il dato quindi è oggettivo e quindi non c'è arbitrarietà. Il dato molto spesso è la statistica, la matematica dello Stato, è ciò a cui si ancorano a volte politici, istituzioni o comunque anche scienziati, quando non riescono a dare delle spiegazioni basate su un vero ragionamento, magari scientifico, e allora lo dicono i dati. Ma in realtà i dati non sono oggettivi. Vi farò vedere quanto ci sia di meno oggettivo del dato. E i dati di per sé non parlano, sono muti, cioè proprio nel silenzio, però hanno tanto rumore. C'è un telefono forse online. Perché i dati non parlano? Anche perché il linguaggio dei numeri non è universale. Abbiamo sentito parlare di linguaggio, abbiamo visto anche il linguaggio dei segni questa mattina nella prima relazione. Però in realtà il linguaggio dei numeri non è un linguaggio universale che tutti possiamo comprendere. Perché non ne siamo educati da piccoli, se non in situazioni molto particolari. Allora, qual è il rumore di fondo di cui vi voglio parlare che è legato ai dati. Allora, il rumore per uno statistico c'è il termine noise. Noise anche in italiano evoca qualcosa di noioso, qualcosa che comunque disturba. Abbiamo sentito il concetto di rumore come turbamento, in certi casi. E come qualcosa diceva prima appunto il poeta dice il silenzio è volontario, il rumore no. Il rumore a volte c'è e basta e lo dobbiamo anche subire. In un certo senso questo anche legato a quello che è il dato. I dati hanno un rumore anche come rumors. Rumors in inglese vuol dire chiacchiericcio, vuol dire pettegolezzo. E vediamo anche come i dati in certo senso si prestano a questo concetto di rumors. E quindi di un rumore come frastuono, quello che noi statistici chiamiamo confounding, che in realtà vuol dire confondimento, ci confonde. Quindi alla fine di questa mia breve relazione io vorrei cercare di lasciare un messaggio del tipo quando noi sentiamo un dato pensiamo di capirlo, però molto spesso lo subiamo nel modo in cui ci viene comunicato. E quindi di sperare di dare anche come messaggio e cercare di sentire questi dati in modo più consapevole. Allora, che cos'è questo? Questo vorrebbe rappresentarvi un po' la statistica. Allora noi vediamo qui che c'è un tavolo dove ci sono degli, un grande tavolo, degli spettatori e dietro c'è qualcuno che tira su delle silhouette di un tavolo di un gatto e c'è un fuoco che lo illumina e lo proietta sulla parete. Allora, che cosa sono? In che senso ha questo? Questo è un po' il ragionamento statistico, no? Allora, il gatto e il tavolo silhouette sono vere, no? Però in realtà i nostri spettatori, che siamo noi, quello non lo vedono. Il fuoco, che cos'è? Il fuoco è un po' il rumore, perché se il fuoco, se io avvicino le silhouette o le allontano cambiano di dimensione. Cambia di dimensione ciò che vedo riflesso nel muro. E questo che vedo riflesso nel muro cos'è? Queste sono le ombre. Quindi i dati, come vedete, non sono in realtà le silhouette. I dati sono, dipendono da quanto il fuoco è vicino o lontano alle silhouette e chi lo mette vicino o lontano alle silhouette. E quindi il dato parla un linguaggio diverso a seconda di chi gli dà voce. E quindi questo, diciamo, per partire sul concetto del rumore. Ma da dove viene il problema del rumore dei dati? Viene da un problema di misurazione. Raramente io sento parlare di misurazione, no? Perché per noi il grosso problema è misurare, primo, chi misura, che cosa stiamo misurando. Noi invece di solito acquisiamo un dato e non ci chiediamo tanto, ma com'è stato misurato questo dato? E invece dovremmo sempre chiederci, dietro un'informazione in cui dicono che c'è un dato statistico, che cosa c'è di reale, cosa c'è invece di, in un certo senso, indotto. Allora, il dato è sempre impreciso, non è oggettivo e soprattutto è quasi sempre soggetto a errori. E quindi l'idea è che il dato senza una misura di errore in realtà non è neanche veramente interpretabile. Quando noi misuriamo, quanto rumore realizziamo che c'è nella nostra misurazione? Di solito chi non è proprio nell'ambito recepisce questi temi come molto intuitivi. Però adesso vi voglio far vedere che così intuitivi non lo sono. è una cosa molto semplice, no? Purtroppo io lavoro nei dati medicina e purtroppo molto spesso abbiamo queste serie di dati temporali proiettati per esempio sui tumori. Allora qui vi faccio vedere appunto questi sono il dato a sinistra sul tumore alla prostata e c'è la crescita dal 1943 al 2003, a fianco c'è quello del tumore al seno. Allora la percezione qual è? La percezione è, caspita, quanto è aumentato l'incidenza e la prevalenza del tumore durante, diciamo, la probabilità di poter avere un tumore durante la vita negli anni. Ma secondo voi questa cosa è verosimile? Allora poi si scatena nell'inquinamento, non nell'inquinamento, però non dimentichiamoci che noi siamo adesso molto sensibili all'inquinamento, ma un tempo non c'erano filtri, non c'era un'educazione nutrizionistica, quindi non è che in realtà una crescita così può essere veramente dovuta dei fattori ambientali. E poi guardate sotto, quello che cos'è? Quella è la mortalità, no? Ah, dico ma come c'è una crescita così e sotto c'è una decrescita invece di mortalità associata a questi tumori, c'è qualcosa che non funziona. Allora dico, eh ma ci sono le terapie, sì però ci sono le terapie ma un'impennata così e una crescita così sembrano non avere... E allora qual è il problema? Il problema è la misurazione, perché noi stiamo mettendo sulla stessa asse delle cose che sono state misurate in modo completamente diverso dal 1948 al 2003. Dopodiché sono entrate, per esempio, lo stesso concetto di diagnosi, no? Diagnosi vuol dire dividere, divide il patologico dal sano, no? Che si trova un modo per dividere. Ma lo stesso concetto di diagnosi è cambiata. Con le campagne di prevenzione, di screening, la diagnosi è molto più precoce. Un tempo la diagnosi era già in fase probabilmente grave di metastasi, no? E di solito quando dico di agno di tumore non dicono esattamente di che stadio, di in che modo è stata fatta, eccetera, ma presentano queste serie. Quindi qui noi stiamo vedendo che un dato è mal rappresentato, perché sta mettendo un po' i cavoli con le patate e ci sta dando l'illusione di che cosa? Un'illusione emotiva, un dato emotivo, no? Cioè è aumentato tutto, no? In senso negativo. Allora vediamo ancora questo, perché c'è il problema della misurazione, soprattutto delle biotecnologie, che fa un po' cambiare tutte le storie. Allora volevo far vedere questo dato. Questi sono dati di risonanza di pazienti affetti da una patologia neurodegenerativa. Allora, in realtà questo è lo stesso paziente. A un certo punto mi ero interessata a questo problema perché avevo una grossa corte di pazienti affetti da sclerosi multipla in cui come indicatore appunto di progressione della severità della malattia ci sono il numero di lesioni a livello di risonanza magnetica e a un certo punto tutti i pazienti sembravano essere peggiorati tragicamente. Quando invece gli indicatori clinici, cioè il vero stato, sembravano essere stabili. Che cosa era successo? Era cambiata la macchina, no? E quindi l'ospedale era passata una tre Tesla, una cinque Tesla, una sette Tesla. E quindi cosa fa? È peggiorato il piacente e lo sto vendendo di più perché è cambiata la macchina. E di esempi così io ve ne potrei fare tantissimi e nessuno ci pensa tanto perché poi si mettono tutti in una grande serie storica. In medicina io conosco pochissimi dati, però appunto qui qualcuno, appunto ci sono anche rappresentanti della medicina, mi potrebbe dire se mi sbaglio. Pochissimi dati che io posso mettere una serie temporale di vent'anni in modo tranquillo, almeno per me come statistica. Sto misurando la stessa cosa. Vediamo un esempio anche molto più vicino al Covid. No? Noi siamo stati bombardati dal Covid. Per me che cos'è il Covid? Oltre a una tragedia che è stata per tutti, è anche una tragedia molto specifica, la tragedia dei denominatori. Allora perché la tragedia dei denominatori? Il concetto di frazione è un concetto intuitivo, no? Noi da piccoli impariamo che cos'è una frazione, allora prendo una torta, la divido in quattro, un quarto vuol dire che è un pezzo di quella torta divisa per quattro in quattro fette uguali. Semplice. E noi siamo stati bombardati in questi due anni di tassi, proporzioni, probabilità, frazioni che sembrerebbero qualcosa di intuitivo, ma che intuitivo in realtà lo sono molto poco perché tutta una frazione dipende dal denominatore. Pensiamo su una cosa banale, no? Come per esempio il tasso di positività che ci dicevano, ci comunicano ancora tutti i giorni per vedere come evolve la malattia, no? E che è il numero di tamponi positivi sul numero di tamponi fatti, no? In Italia oggi è andata bene, è andata male, ci sono dei periodi che sembra tutto bene, altri sembra tutto male. Ma la domanda è, ma la torta qual è? Perché se è una frazione, ce l'hanno insegnata le elementari, dovrebbe essere che a quella sera 300.000 tamponi, di quei 300.000, 2.000 erano quelli positivi, allora quella per me è una proporzione. Ma in realtà quei 2.000 sono i risultati positivi che sono arrivati quel giorno, quindi di tamponi che non hanno quasi nulla a che fare con quelli fatti quel giorno. Ma adesso un po' meglio perché si sono veloci, però anche se il risultato ce l'ho in 24 ore, ma il dato non viene registrato in 24 ore. E quindi in realtà quel numeratore e quel denominatore sono due torte, uno al cioccolato e uno alle pere, che non c'entra niente tra di loro. Ma sto comunicando qualcosa che chi lo recepisce pensa di comprendere. Vediamo un'altra cosa, il tasso di letalità, sempre proporzioni, il numero di decessi da Covid sul numero di positivi. Guardate questi grafici, ho preso proprio Svizzera e Italia e ho preso agosto 2020. Perché ho preso agosto? Guardate, è il momento in cui il tasso di letalità è più alto. Questi sono i dati di Our World Data. Ad agosto 2020 vi sembrava che stesse andando malissimo il Covid? No, anzi l'anno scorso pensavamo che fosse tutto finito e poi dopo c'è anche un po' sorpreso che abbiamo avuto ancora un anno drammatico. E allora che cos'è? Come mai? Eppure guardate in Italia il 14% in Svizzera, quasi il 6%, comunque per la Svizzera è molto alto. E è successo che in realtà dipende tutto da quel denominatore, no? Perché chi c'è in quei positivi? Che cosa mi stanno rappresentando? In realtà d'estate, quando tutti diciamo stanno bene, quelli che andavano nel 2020 in ospedale a farsi dei tamponi erano quasi tutti già con sintomi, no? Quindi, cioè, se uno non aveva nessun sintomo, non aveva quasi nessun motivo per andare a farsi i tamponi. Per cui quella percentuale potrebbe essere altissima nel momento in cui la malattia ha un'incidenza molto bassa, perché ce ne sono pochi saranno a quel sintomo di una polmonita ad agosto, è molto probabilmente, l'intestizia è molto probabilmente un sintomo di Covid. Potrebbe essere anche l'80%, però vedete che tasso di letalità o mortalità noi ci dà l'idea che le cose stanno andando molto male. Quindi io questo fenomeno l'ho chiamato un po' il data bullismo, no? È un concetto data bullying che ho coniato un po' di tempo fa, perché appunto questo bombardamento che ha avuto degli impatti anche socio-psicologici enormi, che poi sono andati a fare come un bloop, no? Perché comunico il dato emotivo, la popolazione si spaventa pronta ad accettare più o meno certe a seconda di come lo comunico e poi ritorna sulle policy, no? Quindi diventa un pochino una specie di loop questa questione. Il data bullismo, ma questo per esempio è anche un po' un data bullismo un po' incomprensibile, perché comunicazione di qualche giorno fa, il 72%, questi sono i dati dell'istituto superi di sanità, quindi dati non del giornalino dei piccoli, il 72% del totale, allora sopra gli 80 anni i contagi fra i vaccinati al ciclo completo sono il 72%, fra i non vaccinati il 25%, e che poi anche lì 72 più 25 non fa il 100%, però ci devono essere forse i dati mancanti. Che cosa recepisce la persona comune leggendo questo tra l'altro comunicato da un istituto superiore di sanità che vuole spingere la gente a vaccinarsi e a fare anche la terza, cosa recepisce la persona comune? Dice, ma allora non serve a niente, figurati se mi vado a fare la terza dose, giusto che recepisce. Cos'è che manca? E quelle sono le tabelle con tutti i dati. Il denominatore, un'altra tragedia del denominatore, no? Perché comunque se io prendo gli over 80 che hanno avuto un'infezione, li sommo e vaccinati, agli over 80 che hanno avuto un'infezione non vaccinati, quindi diventa il mio denominatore, allora a quel punto io ho una visione molto sbagliata, perché per esempio 5.000 over 80 vaccinati, 1.200 over 80 non vaccinati fa 6.200, allora 5.000 su 6.200 caspita una grande proporzione. Peccato che quello non è il denominatore giusto, perché gli over 80 sono quasi tutti vaccinati, per cui quei 5.000 io li devo rapportare alla popolazione degli over 80 vaccinati, non alla popolazione di quelli ovvero 80 che hanno avuto l'infezione. Solo così se lo faccio in modo corretto vedo che invece per chi non è vaccinato la probabilità di avere un'infezione è a 40 volte superiore. E allora sto comunicando il dato in modo corretto. Allora questo era per dirvi i dati, che cosa sono i dati e perché questi presentano un rumore. Allora nel prossimo quarto d'ora passiamo ai big data e vediamo se questo rumore con l'avvento dei big data si è un po' ridotto e è aumentata l'informazione, perché poi qui il passaggio è tutto da dato a più rumore mi danneggia l'informazione oppure mi permette di manipolarla l'informazione. C'è la scubkowski che dice non bisognerebbe utilizzare i dati come l'ubriaco utilizza il lampione per non cadere piuttosto che per far luce, giusto? Quindi questo sarebbe un uso scorretto dei dati. Allora a questo punto che cosa sono i big data? Sentiamo parlare di big data? Ogni tanto ci sono queste parole tipiche un po' dell'informatica, adesso anche della medicina che diventano di moda. Allora qualche volta se uno dice ma cosa sono i big data? Se io lo chiedo alla collega noi cominciamo a dire tante parole, però di fatto i big data sono tanti dati. Sono dati che hanno una dimensionalità che è difficile trattare con carta e penna oppure con un semplice computer eccetera e sono esplose questa disponibilità di dati con l'esplosione delle tecnologie informatiche, delle biotecnologie eccetera eccetera. E si dice che i dati sono big quando ci sono queste quattro caratteristiche, le quattro V. Insomma il volume, quindi un grande volume di dati, la velocità, la velocità di acquisizione dei dati, la varietà e la veracità. E su questo io resto un pochino, sulle prime tre va bene sull'ultima, resto un pochino in difficoltà adesso vi spiego perché. Allora quindi questi sono la grande scoperta dei big data, questo è un classico diagramma un po' qualitativo delle scoperte. Allora questo qui quando c'è una scoperta scientifica tipicamente c'è un momento di entusiasmo, forse un po' in tutte le cose. C'è un momento di entusiasmo e poi a un certo punto c'è la caduta della disillusione e poi forse si raggiunge, si spera, un plateau che è la vera, diciamo il vero contenuto innovativo della scoperta. Allora i big data prima erano in fase di crescita, adesso sono già un pochino nella fase di decrescita perché si è capito che avere a disposizione tanti dati non sempre vuol dire avere a disposizione tanta informazione e tanta conoscenza. Allora quanti tipi di big data ci sono? Ci sono in tantissime aree, in particolare mi occupo di quella di biomedicina, però ci sono nell'area della finanza, nell'area dell'istruzione, nell'e-commerce, nel commercio, in tantissimi settori, nella politica, per esempio nelle elezioni del 2012 Romney contro Barack Obama erano stati proprio utilizzati big data per cercare di capire le preferenze nei vari paesi, addirittura lui si era, giusto si era fatto una specie di decamper con un sacco di nerd statistici e matematici che si portava in giro, loro prima che lo andasse a fare le sue conferenze in quello stato incrociavano i dati di quello stato e cercano di capire le esigenze, per cui il suo discorso era diverso in ogni stato e ha funzionato perché ognuno che andava a ascoltare dice sto proprio presente i problemi del mio paese, no? Differentemente invece dai politici che solitamente sono molto autoreferenziali e non si guardano intorno per vedere come invece è diversa la distribuzione delle problematiche a seconda del posto del paese. Allora i big data hanno anche cambiato i paradigmi della medicina e in che modo? Allora cambia per esempio il concetto di variabilità, allora io vi faccio vedere che cosa hanno in comune queste quattro persone. Allora innanzitutto la variabilità che cos'è? Trovare una variabilità è la cosa interessante, no? In medicina se uno dice ho fatto un grande studio e durato quattro anni ho trovato esattamente quello che hanno trovato gli altri quattro anni fa, non ne frega da nessuno. Quindi devi trovare qualcosa di diverso, no? È la differenza a cui siamo sensibili in tutto, anche nel comportamento, no? Nei nostri figli, c'è una piccola differenza, diventiamo subito estremamente recettivi rispetto a di... La stessa cosa è la statistica, studia le differenze. Allora però è cambiato un po' il concetto di differenza, no? La differenza adesso è diventata la variabilità genetica, per esempio questi individui hanno... sono uguali a 99,8%, no? Quindi c'è proprio uno 0,2% che rende questi individui molto diversi. Nel 1925 il padre di quella che noi statistici chiamiamo la prova delle ipotesi, voi magari non l'avete mai sentito a nominare, ma per noi è tutto quel comparto di metodo scientifico che ci permette di validare un'ipotesi, diceva che ciò che non varia non è interessante, come ho detto prima. Oggi anche questa cosa è cambiata, perché in realtà abbiamo per esempio la genomica conservativa, cioè che dice che cosa hanno in comune delle specie molto lontane, no? E quindi per esempio, se voi vedete, si confrontano adesso anche i genomi di specie sempre più lontane, quindi uomo macaco, uomo maiale, uomo coniglio, uomo ratto, eccetera, fino a uomo gallina, e che cosa si guarda? Non ciò che cambia, ma ciò che è uguale, perché ciò che è uguale potrebbe essere ciò che ha causato la non estinzione della specie, ma un vantaggio evolutivo, no? Quindi cambia tutto, quei big data sono disponibili dei dati che hanno permesso i dati di genomica, l'omica, la proteomica, la trascrittomica, tutti questi termini, metabolomica, no? Uno si distrae un attimo, si perde un po' come nei cellulari, quando c'è il nuovo, e quindi noi passiamo, per esempio, anche il traguardo della medicina, siamo passati da quella che chiamiamo la medicina traslazionale, poi alla medicina personalizzata, ora siamo una medicina di precisione, cioè di riuscire a essere così precisi che questi dati diventano una cura proprio a quel paziente, non alla generale popolazione di paziente, no? E allora questo è veramente accaduto, perché l'obiettivo qual è? L'obiettivo è la prevenzione, giusto? Cioè l'obiettivo è di avere un mondo tutto di sani, questo è l'obiettivo, è il sogno della medicina, no? Noi sappiamo che il 20% dei soggetti genera l'80% dei costi, quindi c'è anche un obiettivo economico, no? Quindi prima noi riusciamo a prevenire e prima riusciamo a intervenire, no? Per esempio la statistica ha avuto un ruolo importante, prima era quasi a livello di predizione, la professora Samira che è una grande anche esperta dei numeri e magia, sa bene che nei secoli passati lo statistico veniva visto un po' come un mago, no? Poi c'è stato il concetto di previsione, quindi vedere prima, adesso invece c'è il concetto di prevenzione, cioè viene proprio prima ancora della malattia e quindi questo dovrebbe essere il grande contributo dei big data, ma c'è ancora questo rumore, no? C'è quanto contenuto informativo c'è in questi big data? Allora il problema dei big data qual è? Che noi, sono queste enorme quantità di dati, no? Che possiamo avere da Twitter, da Internet, a un certo punto ci sono dei motori di ricerca a cui noi diciamo inconsapevolmente a volte aderiamo, no? Diciamo un sacco di sì e non ce ne rendiamo conto durante il giorno quando guardiamo Internet, no? Solo il fatto di guardare a un certo punto, magari stiamo cercando, che ne so, il tagliaerba del giardino e mi viene una finestra fastidiosissima che non riesco a chiudere e io allora cerco la crocetta destra, è un fake perché non riesco a chiuderla, in quel momento stanno registrando che a quell'ora una persona che statisticamente se sono le tre del poveriggio potrebbe essere una donna o un uomo e in quale fascia d'età è rimasto su quella notizia e poi misteriosamente mi comincia ad arrivare un sacco di pubblicità sul tagliaerba e diciamo come fanno a saperlo, no? Quindi in realtà sono big data anche inconsapevoli, ma in realtà l'aumento dei dati molto spesso ha aumentato il rumore perché poi questi dati sono stati acquisiti senza quello che diciamo una programmazione, un piano, un disegno, cioè in modo totalmente inconsapevole, quindi tutto si corrella con tutto, questo è un esempio, no? Se voi prendete per esempio la serie di dati dal 99 al 2009 in cui mettete da una parte le spese in scienza e tecnologia in America e dall'altro il numero di suicidi per impiccaggio e strangolamento vengono altissimamente correlati. Sicuramente qualcuno avrà scritto che c'è un motivo che la gente si è depressa perché hanno speso troppo in scienza e tecnologia, ok? Ma questo è ancora più divertente, il numero di annegamenti in piscina correva con il numero di film di Nicolas Cage, no? Ora, ultimamente i film di Nicolas Cage non sono un gran che, però, non è che inducono a comportamenti suicidari e quindi che cosa si va? Si va nel famoso problema, no? Association is not causation, che è il problema della causalità, si potrebbe fare 400 simposi solo sulla causalità con le voci di tutte, dai filosofi, ai filosofi della scienza, agli statistici, ai medici, ma di fatto che cosa vuol dire che l'associazione non c'è? Che c'è rumore e quindi trovare delle linee di dipendenza, per esempio, io posso dire che l'alcol causa il tumore ai polmoni? In realtà, se io non guardo, per esempio, il fumo, potrei dire che c'è un'altra causalità tra il consumo di alcol e il tumore ai polmoni. Poi, se comincio ad aggiungere un po' di variabili, vedo che magari chi consuma alcol, che è, diciamo, prono a delle addiction, consuma anche tante sigarette e quindi ha un tumore ai polmoni. Queste catene sono delle catene che, anzi, non voglio spoilerare, per esempio, se voi pensate a due fenomeni qualsiasi e googolizzate, io sono sicuro che qualcuno avrà scritto qualcosa per cui sono associati, soprattutto, non so, sul tema tumori o tema Alzheimer e demenze, che sono al momento. So, pensiamo, mangiarsi le unghie correla con i tumori, dice, no, ma che cavolo dici? Eppure sì, qualcuno lo scrive, no? Il vizio di mangiarsi le unghie provoca il cancro, no? E il dito è appudato ad una ragazza di vent'anni. Poi, dopo tre giorni, esce sulla stampa, e non sto dicendo, la stampa in Italia è uno dei giornali principali, dicendo, mangiare le unghie non fa venire il cancro, quindi hanno scoperto che, quindi non era poi tanto vero, no? Che cosa è successo? Non lo so quali sono i dati che hanno guardato, ma sicuramente era come i film di Nicolas Cage e i suicidi per annegamento. E poi, sulla parte delle demenze, allora, purtroppo le demenze sono il grande challenge della medicina dei prossimi 300 anni, no? Con un sacco di problemi ancora insoluti, soprattutto sui trattamenti, sull'evoluzione, sulle cause scatenanti, eccetera, eccetera. È quella che si chiama in medicina una malattia genetica complessa, cioè è complessa, è un casino. C'ha componenti genetiche, componenti ambientali, interazione tra i geni e chi lo sa, familiarità. Eppure qualcuno riesce a dire, in questa situazione di caos, che la gengivite può essere una causa dell'Alzheimer, no? Allora, poi, dici, ma io vado a vedere, perché c'è sempre il riferimento all'articolo di riferimento, allora vai a vedere che c'è stato un studio molto grande, in cui c'erano, credo in Giappone, un campione molto grande, big data, di soggetti che erano affetti da gengivite e anche da Alzheimer molto di più rispetto ai soggetti non affetti da gengivite. Allora, le notizie dopo ve le risparmio perché sono la prevenzione dei denti fin da piccoli previene dell'Alzheimer, perché poi andiamo a questi livelli. Ma se voi chiedete a qualunque, anche, diciamo, operatore sanitario che lavora con pazienti di Alzheimer, vi saprà subito dire, ma certo, la prima cosa che succede a un paziente affetto di demenza è perdere la cura del corpo e quindi lavarsi i denti e quindi la gengivite, no? Quindi, voglio dire, se vedo due fenomeni insieme, trovare delle frecce è totalmente arbitrario, eccetera, eccetera. Per fortuna di chi non ha più l'appendicito, meno rischi di avere il Parkinson. Cioè, e andiamo avanti così, il peperoncino anticipa la pazzia, un'esplorazione scioccante. Anche qui questo è molto interessante perché 11.000, quindi big data, 11.000 soggetti in Sud America, che poi come abbiano rilevato questi dati? La mia domanda è, ma che cosa hanno misurato? Hanno visto che un consumo di 50 grammi media al giorno di peperoncino porta al, cos'era? Demenza, non so adesso quale tipo di demenza. Ma no, la mia domanda è, primo, come hanno misurato che questo, tra l'altro era un studio longitudinale, cioè nel tempo di due anni, no? Due anni, come hanno fatto a sapere quanto peperoncino e poi 50 grammi, io poi li ho pesati, no? Voi avete in mente quant'è 50 grammi di peperoncino in media al giorno? Cioè è una roba che prima ti viene tutto il resto, no? Perché voglio dire, e quindi qual è il punto? Il punto è che purtroppo che affetto da demenze perde dei recettori, tra cui anche quelli del gusto, probabilmente per sentire un pochino di piccante e comunque non ci credo neanche perché non so come l'hanno misurato è immisurabile, no? Quindi io mi chiedo ma che cosa stanno misurando? E poi invece andiamo a qualcosa che purtroppo ci tocca molto più da vicino. Io sono sicura che tutti i fumatori che sono selettivi nel riuscire a catturare queste notizie, hanno letto queste notizie e ne erano confortati e quindi quella sigaretta che per molto tempo è stata anche l'unico motivo per stare senza mascherina e uscire è diventato anche protettiva verso l'infezione da Covid. Perché sono selettivi? Perché quando parli con i veri fumatori conoscono sempre quello che ha vissuto cent'anni fumando 30 sigaretta al giorno, cioè io non so, questi nonni sono tre secondo me e quei tre hanno fatto un giro incredibile perché avevano una loro forza. Però questa, allora, io che invece appunto sono sempre stata impegnata nella campagna antifumo, sono andata a vedermi tutti, c'erano studi francesi, eccetera, e c'è chi ha cominciato poi. Ci sono anche delle basi biologiche sull'effetto della nicotina, sui recettori, eccetera, eccetera, del Covid. Però uno si deve chiedere che cosa, come l'hanno misurato il fumo? Prima domanda. Allora, perché hanno fatto vedere questo bel campione dove c'erano i ricoverati con Covid erano quasi tutti non fumatori, invece quelli con Covid non ricoverati c'era un'alta percentuale di fumatori e però, vedi, non l'avevano sviluppato in modo severo. E allora, secondo voi, qual è il problema qua? Qual è quell'effetto, quel rumore qui, proprio? Questa è l'ombra, no? Proiettata dal fuoco. Ma il rumore qui cos'è? È l'età. Perché se tu prendi un campione di over 80 ricoverati da Covid, prima di tutto c'è una questione di stigma, che se va al medico quando tu sei quasi in una fase di essere intubato e ti dice, ma sei un fumatore? No! Cioè, anche se sei fumatore, c'hai quasi paura a dirglielo, vero? Secondo, anche i piacaniti fumatori dopo una certa età smettono, hanno avuto qualche episodio cardiovascolare, quindi la domanda a fumi sì no, che era quella in cui avevano rilevato il fumo, è totalmente fuorviante, perché nel fumi sì no, la percentuale dei fumatori, di solito il 25%, arriva al 2%. Se poi cominci a dire, ma hai fumato? Hai fumato negli ultimi due anni, negli ultimi cinque anni, negli ultimi dieci anni, allora cominci a ricomporre un po' la situazione. E quindi, lì c'era un fattore l'età, che è ovvio che se i ricoverati sono ovvero 80, probabilmente non tutti hanno un fumo, ma non certo il fumo che protegge dal Covid. Per cui, andiamo adesso verso la... anche qui c'erano state situazioni paradossali, cito questa perché l'abbiamo studiata con tutto il gruppo dell'entrospedaliero cantonale, c'è stata a un certo punto una cosa molto pericolosa, che diceva che i farmaci antipertensivi, gli acionibitori, erano dei fattori di rischio per il Covid. Anche lì c'era questo fattore età, che era chiaramente confondente, perché l'iperteso è anche quello più anziano e quindi ha tutta una serie di fattori di rischio per cui si stava attribuendo e abbiamo studiato come anzi questi fasi fossero addirittura protettivi. Allora, arriviamo alle conclusioni. Quindi, nel 2013 a un certo punto hanno tutti un po' calato, si pare, hanno detto perché la scienza va male, eppure abbiamo tutti questi dati, no? Perché di tutti questi dati il problema della riproducività riusciamo a riprodurre sono il 36%, no? Allora, il problema è proprio questo, che non c'è un controllo di processo di generazione dei dati, sono tutti i dati che noi osserviamo, no? E quindi che hanno, per esempio, una selection bias, il famoso studio sull'utilizzo della pillola come terapia per le donne in post-menopausa, che ha portato a prescrivere per decenni la pillola come protettiva, in realtà con un clinical trial ben disegnato ha fatto vedere che anzi poteva causare un aumento del rischio cardiovascolare. In realtà quello era un campione volontario e quindi erano donne che mangiavano bene, che facevano comunque sport, che avevano quindi una qualità di vita molto protettiva, per cui è stata attribuita invece alla ormonoterapia. Andando avanti, quindi, siccome voglio dare anche una risposta positiva perché sennò restiamo senza speranza. Allora, come passare da questi big data, come abbattere un po' questo rumore, no? Dei dati che sono smart. Bisogna recuperare il concetto di metodo scientifico, no? Il concetto di metodo scientifico, focalizzarsi sulla qualità dei dati e arrivare alla contaminazione, ma non la contaminazione di senso negativo, ma quella delle scienze. Perché ricordiamoci che fino ai secoli un po' scorsi tutti i settori erano molto in dialogo. Il filosofo, il poeta, il matematico, il genetista avevano vere e proprie comunità dove ci si parlava. Oggi il sapere molto specialistico ha diminuito tantissimo la capacità di portare informazioni di questi saperi. Qui faccio vedere appunto il nostro Galileo Galileo, ma arrivo quindi a fondamentale, quindi favorire il dialogo delle scienze, lo sapeva anche Dostoevsky. Noi abbiamo tanti esempi di contaminazione di sapere. Non è un mistero che John Eccles fosse sempre in dialogo e anche ha scritto dei test importantissimi con Karl Popper, Marie Curie e Albert Einstein. Quindi questa contaminazione dei saperi è, dal mio punto di vista, oltre che chiedersi cosa misuro sempre quando sentite una notizia, assolutamente la base di partenza per fare sì che questi big data, che hanno tante potenzialità, perdano il loro rumore fastidioso e grave e diventano tante informazioni. Grazie. Grazie molte alla professoressa Iserio che ci ha, in fondo avevamo questo titolo molto rumore per nulla, abbiamo parlato tanto del rumore e questo intervento ci ha fatto riflettere su questo molto, anche in un'ottica chiaramente ben diversa e credo illuminante per tutti i presenti, che non tutti sono così forse competenti in ambito statistico. Grazie. 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 Grazie.